E' iniziato Macerata Feltra, il nuovo ciclo di incontri sul territorio per presentare i bandi aperti e di prossima emissione. Una grande partecipazione e interesse ha contraddistinto la prima giornata di confronto con imprenditori agricoli e rappresentanti dell'associazione Mondo Accademico Istituzioni Cittadini. L'intento, come ha spiegato il vicepresidente Mirko Carloni, assessore all'agricoltura, è quello di illustrare i bandi promossi dal PSR Marche più adeguati alle caratteristiche e alle varie esigenze produttive degli operatori agricoli. Questa sera presentiamo due grandi strategie, quella dell'enoturismo e dell'agriturismo, due misure che vorremmo finanziare sia col PSR che con il PNRR attraverso il bando che uscirà sui distretti del cibo. Entrambe queste strategie crediamo saranno una grande rivoluzione per il turismo rurale e anche per il sistema della diversificazione in agricoltura, per dare reddito agli agricoltori per fare in modo che oltre all'attività diretta di produzione ci sia una capacità di far vivere delle esperienze in campagna. Se pensiamo alle nostre bellissime colline e da quanti anni attendevano una riforma del turismo rurale, dell'agriturismo, della possibilità per esempio di fare somministrazione mescita dentro le cantine oppure di fare un'esperienza anche attraverso delle spa che prima non si potevano fare negli agriturismi. Quindi crediamo che il combinato disposto dell'enoturismo che sta funzionando e da tanti anni in alcune regioni sta veramente producendo degli effetti molto positivi e da noi purtroppo eravamo molto in ritardo, stiamo recuperando questa strada e così come sull'agriturismo crediamo che il nuovo modo di concepire il turismo rurale che è un fenomeno di attrazione perché oltre ad assaggiare il vino uno può vivere le esperienze come la raccolta del tartufo o la produzione delle olive alla scolana piuttosto che andare a vedere le nostre stalle in una forma di esperienza appunto. Io credo che questo sarà il futuro del turismo rurale e dovevamo strutturarlo con dei finanziamenti ma anche con una nuova legge. Quindi questa amministrazione ha prima prodotto una legge di cambiamento e poi finanziamenti per sostenere le imprese e gli investimenti. Diversi gli incontri previsti in tutto il territorio regionale. Oggi è stata la volta di Ortezzano Valdaso, domani invece appuntamento al ristorante Simposium di Cartoceto il 26 maggio a Potenza Picena ed infine il primo giugno a Sant'Angelo Invado sempre con inizio alle ore 17.30. In questo caso parliamo di agriturismo, agricoltura sociale e enoturismo anche proprio perché abbiamo individuato questo tema come molto confacente alle aree interne come possibilità di sviluppo che va oltre la produzione agricola. Il secondo argomento invece poi riguarda la programmazione 2023-2027. Siamo proprio nella fase cruciale quindi la giornata serve anche per raccogliere indicazioni, suggerimenti dai partecipanti per questa definizione delle nuove schede di misura del prossimo periodo.